Benvenuti da Fabiana Luongo ad un nuovo appuntamento con la nostra rubrica Cose da giornalisti, benvenuto ad Ottavio Lucarelli. Ciao Fabiana, buongiorno. Come al solito, tre domande. Ottavio, la prima non può che essere sull'elezione di Carlo Verna, Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti. Carlo Verna a cui facciamo le congratulazioni e gli auguri a nome del nostro Direttore Rossana Russo e di tutta la Sud Comunicazioni. Ottavio, è la prima volta che viene eletto un campano alla Presidenza Nazionale? Allora, è la prima volta che al Vertice dell'Ordine Nazionale viene eletto un campano che vive e lavora qui in Campania. In realtà, qualche decennio fa c'è stato un presidente originario di Nola, ma poi in realtà viveva a Roma, lavorava a Roma e era poco radicato a Napoli. Quindi è la prima volta in cui siamo realmente rappresentati noi campani al Vertice da un collega che è cresciuto con noi, col quale abbiamo lavorato tanti anni, condiviso battaglie. Io ricordo quando abbiamo cominciato molti anni fa, una ventina di anni fa, c'era l'allora Vertice che ci definiva minoranza minima. Noi abbiamo combattuto, lottato e devo dire, grazie al sostegno di tantissimi colleghi, sostegno cresciuto e via negli anni, siamo riusciti a costruire una squadra importante, adesso riconosciuta non solo in Campania, ma anche a livello nazionale. Questo è importante veramente per tutti i giornalisti della Campania e per tutti i giornalisti italiani, perché credo che un collega migliore di Carlo Verna a livello nazionale per competenza e esperienza al momento non c'è e lui è stato tra l'altro anche segretario nazionale del sindacato della RAI, quindi ha un'esperienza nazionale enorme. Ottavio, cambieranno adesso i rapporti? Ci sarà un rapporto più intenso tra l'ordine nazionale e quello regionale? Inevitabilmente sarà più intenso perché poi con Carlo da tanti anni ci sentiamo tutti i giorni, certo lui adesso avrà meno tempo a disposizione, comunque stiamo continuando a sentirci tutti i giorni. Io voglio comunque ringraziare l'ordine uscente, abbiamo comunque avuto sempre un buon rapporto, tra l'altro nella squadra di Carlo Verna è stato confermato il tesoriere, che è Nicola Marini, un collega abruzzese, con il quale abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto e questo è un dato importante perché sia per Carlo, avere una persona che cura il bilancio in modo impeccabile e che ha ottimi rapporti poi con tutte le ordini regionali. Io voglio ricordare che Carlo Verna è stato candidato proprio da 16 presidenti delle ordini regionali, quindi la sua è una candidatura che non è nata dal vertice a Roma, ma è nata dalla base, dalle regioni, 16 su 20. E questo si è visto anche nel risultato perché il gruppo ha ottenuto i tre quarti dei consensi del Consiglio nazionale. Tra l'altro in programma breve proprio un incontro con tutti i presidenti regionali. Sì, esiste un organo che si chiama la consulta dei presidenti che si riunisce periodicamente e Carlo ha detto che saremo convocati prestissimo. Questo è importante perché ci sono alcuni progetti che sicuramente dobbiamo continuare a portare avanti, ma dobbiamo sicuramente portare tante innovazioni al lavoro degli ordini regionali che va svolto in assoluta sinergia tra Roma e tutte le regioni. Perfetto, io ringrazio come al solito Ottavio Rucarelli per essere stato con noi. Sì, dobbiamo ringraziare, io ringrazio te e dobbiamo anche ringraziare tutta la squadra dei giornalisti pubblicisti perché nella squadra di Carlo Verna dobbiamo ricordare che c'è Alessandro Sansoni, che è un collega pubblicista di Napoli che sta nell'esecutivo nazionale, e Angelo Sciaravolo, collega pubblicista di Torre del Greco che è nel collegio dei Revisori dei Conti. Quindi c'è una squadra campana a Roma molto importante. Perfetto, grazie ancora allora ad Ottavio Rucarelli e grazie a tutti voi. L'appuntamento alla prossima settimana.